Sì, è il nuovo di zecca, a due piani. Ci sono sette cucine, alloggi per l'equipaggio. Com'è grande! Siamo alla 26... Sì, eccola qua. Quando ti sveglierai, saremo a New York. Anche papà? Sì, anche papà. Ha visto passare una bambina? No. Cerco mia figlia. Ha sei anni. Forse ci ha visto salire a voi. I capelli rossicci. Aveva con sé un ossetto di cinini. Non riesco a trovare mia figlia. Qualcuno ricorda di averla vista? No. No, signore. Cosa mi nascondete? Cosa mi nascondete? Mi dispiace, ma non credo che sia qui. Cosa? Signora, sua figlia non è mai stata registrata a bordo. Era il posto accanto al mio, 26A. Il 26A è libero. Non c'è lo zainetto, l'hanno rapita. Capitano, le devo parlare! Fate sedere i passeggeri e aprite tutti gli scomparti. È squilibrata. Sta facendo agitare i passeggeri. Cercatene le stive, adesso! Il mio equipaggio sta cercando una bambina che nessuno crede sia mai salita a bordo. Con chi sta parlando? Non è questo il posto per discuterne. Dov'è mia figlia? È chiaro? Dov'è mia figlia? Secondo il responsabile dell'obitorio, sua figlia è morta sei giorni fa. Cosa? L'addetto alla sicurezza l'accompagnerà al suo posto. Voi lo sapete che è qui ed è viva. Perché nessuno l'ha vista? Non lo so. Ah! Mio figlia è viva! Che succede alle luci? Dov'è finita? Giulia! La terra verrà arrestata. Giulia! Dov'è Giulia? Dov'è Giulia! Dov'è Giulia!